La terapia dello strabismo consiste nella cura della causa dello strabismo stesso, quindi se è presente un difetto di vista che produce lo strabismo bisognerà correggere il difetto di vista, se è presente un'alterazione dell'occhio storto bisognerà correggere questa alterazione e qualora comunque anche una volta corrette queste alterazioni rimanesse lo strabismo bisognerà eseguire una terapia riabilitativa o terapia ortottica che consiste nel cercare di stimolare la vista sempre nell'occhio peggiore.